Eccoci qua dunque tutti sullo schieramento che comincia da destra del vostro teleschermo con Capirossi già allineato adesso arriverà Baylis con la Ducati numero 12 e poi le due moto gialle sono le due onda di Biaggi che con la moto clienti si è messa davanti a quella di Ucawa dietro a Capirossi c'è Valentino Rossi ormai è il momento del semaforo vediamo come partono parte bene Baylis l'impressione che si è partito di nuovo a Cannone di nuovo a Cannone e le Ducati vediamo all'interno c'è anche Hopkins che ha fatto un bel numero per portarsi tra i primi e si mette in terza posizione Valentino Rossi attenzione all'esterno resta un po' intruppato in quel gruppone da dietro sarà costretto ad un recupero di almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posizioni Valentino Rossi adesso c'è Troy Baylis davanti a tutti davanti a Capirossi a Hopkins, a Biaggi poi direi Gibernau quindi Ucawa anzi il terzo è Hopkins Biaggi, Gibernau, Ucawa, Ceca Rossi e l'apriglia di Edwards in nona posizione Rossi è finito in ottava posizione ma che partenza dei Ducati attenzione a l'attacco fra Ducati e Ducati con Capirossi che si avvicina di molto intanto Gibernau, Scavalca, Max Biaggi e si porta in quarta posizione bellissima di nuovo la partenza della Ducati esattamente quello che ci aspettavamo e bravissimo Hopkins con una Suzuki che era un fantasma del moto mondiale fino alla gara scorsa è riuscito ad infilarsi all'interno intanto avete visto una bellissima derapata bella e lunga di Capirossi ci segnalano dai box che il patto che c'è fra i due piloti della Ducati è quella di non fare di non fare confusione fra di loro per lo meno per i primi 8 giri va bene allora teniamo d'occhio i primi 8 giri vedremo cosa succederà poi magari non è scritto che queste cose succedano sempre bisogna valutare anche un po' l'evolversi della situazione intanto Gibernau su Hopkins si porta in terza posizione Gibernau c'è Valentino Rossi qui in ottava posizione che sta inseguendo Max Biaggi e Aukawa alle sue spalle ha già recuperato anche Rossi qui alla fine del rettilineo vediamo come si porta all'interno Rossi e all'interno Rossi si porta davanti problemi di Ducati vediamo cosa è successo Bayliss è scivolato indietro Bayliss è scivolato indietro Bayliss attenzione cerchiamo di ricostruire la situazione probabilmente un errore allora si ha perso no è stato sorpassato da Gibernau che uscita di curva è stato sorpassato da Gibernau ma anche da Capirossi perché Bayliss era partito in testa quindi non abbiamo visto esattamente che cosa sia successo vediamo Valentino Rossi in quinta posizione lanciato al gran recupero adesso in questo momento attacca Hopkins Valentino Rossi allora Capirossi Gibernau Bayliss e Rossi già in quarta posizione si è scavalcato anche la Suzuki si è scavalcato anche la Suzuki Melandri era passato dal primo passaggio sul traguardo in quindicesima posizione lui scattava dalla sedicesima non è riuscito a guadagnare nemmeno nemmeno una posizione intanto bellissima che curva Capirossi bellissima della parte di Capirossi e il passaggio di Valentino pulitissimo in staccata su Troy Bayliss vediamo scelte di gomme Reggiani perché questo è importante in questi primi giri ma anche dopo si sono tutti piazzati sulla stessa scelta duro al posteriore solo Alex Baros ha una gomma davanti un po' più morbida insieme a Carlos Cech probabilmente attenzione è già secondo è già secondo non era partito tanto bene ma non ci ha mai messo tanto tempo a recuperare in effetti il passo di Valentino nelle prove era di mezzo secondo inferiore più veloce di tutti gli altri per cui anche adesso ha fatto 42-9 contro il 43-5 di Capirossi gli ha guadagnato 6-10 e mi sa che mi sa che presto avrà la possibilità di passare anche a Capirossi ha guidato morsicando il manubrio fino a qua a Capirossi e adesso si ritrova Rossi alle spalle bisogna vedere se si comporterà come suo compagno di squadra Bayliss in Sudafrica quando non si fece intimorire da Valentino Rossi anche se qui forse è più un problema di moto c'è spazio per Rossi per entrare ma Capirossi chiude bene ha il fiato di Rossi sul collo e poi dietro invece terzo è Givernau quindi Capirossi Rossi Givernau Troy Bayliss che tiene bene ma ancora tutto può succedere attenzione Valentino Rossi che ha affiancato per qualche istante Capirossi che comunque continua a mantenere la testa della corsa ai tempi con Reggiani a giro precedente una considerazione Melandro non è partito tanto bene ma è già 14esimo e ha girato molto forte perché 1.43.8 il suo passaggio contro 1.43.5 di Capirossi in testa alla gara però purtroppo nella MotoGP partire bene gli accidenti bellissime queste immagini gigante ci aveva abituato Valentino Rossi a vedere queste cose però la Ducati mi sa che capirossi sulla Ducati riesce a fare altrettanto ho l'impressione che l'abbia proprio gestita anche lui con il gas che non sia stata una di quelle derapate a sigliozzo che ti possono creare qualche problema certo è che probabilmente Capirossi se fa queste cose vuol dire che sta guidando impiccato ultima curva e poi il rettilineo qui si esce si percorre circa 80 all'ora e poi qui si scarica praticamente tutto è una curva molto stretta di raggio Valentino Rossi si mette nella scia di Loris Capirossi già meraviglioso Capirossi fino a qui e poi Rossi e poi Gibernau e poi Bailis che ha perso quelle tre posizioni in un modo che ancora dovremo certificare e poi Max Biaggi là dietro in quinta posizione dietro Biaggi ci sono Sheik Hopkins Ukawa Jacques Edwards con la briglia l'altra briglia di Aga quindi Barro Staccano e Melandri in quattordicesima posizione vietato fumare ha fumato vietato fumare poi è andato l'arco però è andato a frenare largo sembrava dall'inquadratura che Rossi potesse pensare di mettersi dintro ma era distante è andato vicinissimo alla terra intanto il più veloce in pista è stato Max Biaggi 1.43.4 contro 1.44 inizioni di Capirossi ma Melandri ancora molto forte 1.43.834 vedete come è andato a finire sul cordolo con la moto completamente di traverso e lì è un punto è una situazione abbastanza delicata perché l'aderenza del cordolo è diversa dall'aderenza dell'asfalto per cui è andato ancora ancora è spitu è vietato fumare attenzione ceca fermo ceca ceca fermo fumano le gomme di Capirossi uno di quei casi rari unici in cui il fumo lo apprezziamo fantastico fantastico veramente lo spettacolo della Ducati in pista con Valentino Rossi che invece senza fare una piega però gli tiene il passo gli resta lì vicino non fa spettacolo ancora guardate Capirossi come esce e qui però Rossi la mette di traverso all'interno questa l'ha fatta d'astuzia Valentino Rossi e ha superato Capirossi non era di potenza era una staccata all'interno la messa di traverso si è messa davanti con la linea migliore grande Valentino Rossi grande Capirossi bella coppia quella di testa con l'Augurio che dietro G.Bernau Biaggi e Belis non perdano contatto perché vogliamo bagarci nella fine 23 gira si Belis ha perso la posizione su Biaggi Biaggi sta andando ancora più forti di tutti 1.43 e 1 contro l'1.43 e 3 di Valentino Rossi c'è da dire che Valentino forse ha perso qualcosa nello stare dietro a Capirossi adesso vediamo se Valentino anche in gara ha la possibilità di quei 4-5 decimi di vantaggio e quindi di poter allungare Melandri intanto ha fatto un bel salto in undicesima posizione era quattordicesima ha scalicato due piloti e nonostante questo ha girato comunque in 1.44 molto vicino al tempo dei primi peccato la partenza intanto G.Bernau ha tentato di assaltare Capirossi sembrava che per un istante potesse approfittarne Biaggi fermiamoci un istante poi in gara tutto invariato con Rossi che ormai ha un secondo di vantaggio su Capirossi G.Bernau e Biaggi attenzione Capirossi ha sbagliato perché sbaglia è uscito è uscito completamente attraverso la curva precedente e poi ha ritardato la staccata sapeva di avere G.Bernau molto vicino non voleva fare niente non voleva cedere il passo ma è andato ha finito per mettere poi le ruote sullo sport e dover girare largo intanto Valentino è andato sotto il muro dell'1.43 traiettoria parallela tra G.Bernau e Biaggi con G.Bernau che riesce a tenere testa a Max Biaggi adesso qua le Ducati devono recuperare anche Valentino Rossi anche G.Bernau escono in derapata ormai tutti in derapata pare un vizio che ha contagiato i piloti più forti tranne Biaggi che invece ha come qualità e peculiarità quella di guidare la moto pulito dolce sul binario gli piace guidarla così funziona guidarla così guardate qua ha preso una buca gli si è scomposta stava frenando molto stava pinzando molto in quel frangente si è infilato dentro una buca con i freni troppo tirati e la moto gli si è scomposta ha dovuto lasciare i freni e andare là allora facciamo un'ipotesi paradossale che le prime tre onda davanti a tutti siano perfette in questo momento Rossi ancora completamente a compasso di traverso diciamo facciamo un'ipotesi che tutte e tre le onda siano perfette paradossale e che la Ducati invece abbia ancora quei problemi di trazione però sia più potente il motore prevale la onda in una situazione del genere si perché su questa pista perché il motore lo puoi sfruttare a pieno solo su qualche secondo su qualche frazione di tempo durante tutto il giro mentre il complessivo della moto lo utilizza per tutto per tutto il giro un moto di questa potenza sul rettilineo ci sta veramente pochi secondi per cui quello che ti possono dare 10 cavalli in più non è tanto sta lottando bene Biaggi lì con Gibernau Biaggi che ha avuto la prima sessione di prove ufficiali piuttosto disastrosa e che ieri è riuscito a sistemare più o meno tutto compreso stamattina montando all'anteriore una molla molto più morbida sulla forcella non vorrei che stessero no Gibernau fuori mannaggia 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 Gibernau fuori anche lui lo sta dicendo era troppo teso sia ieri che l'altro ieri è incappato intanto si è piegato troppo e è scimolato davanti davanti e dietro allo stesso momento peccato peccato ha fatto una serie di errori continui questo weekend questo porta Max Biaggi in seconda posizione all'inseguimento di Valentino Rossi e Capirossi e Melis in terza e quarta posizione va bene la moto di Gibernau è qui più disperato ed arrabbiato sicuramente che infortunato perché la caduta è stata dal basso e qua di nuovo le due Ducati di Capirossi e Melis protagonisti entrambi di Melis ancora con certezza non lo sappiamo Capirossi sicuramente di un errore fumo 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 nuvole di fumo azzurro e anche per Capirossi Rossi e Capirossi stanno fumando stanno dando un grosso spettacolo adesso Rossi ha rallentato un po' il ritmo ha già un secondo dei due di vantaggio se l'è guadagnato tutto il primo giro che è stato davanti da solo andiamo a sentire la situazione di quelli che in pista magari non sono in condizioni fisiche perfette con il dottor Costa al microfono di Palo mentre mi box si è si allora come sono le condizioni non sono proprio a posto le condizioni di Melandri dopo il grave incidente del Giappone il blocco vertebrale conosciuto come colpo della strega e la caduta di stamattina nel warm up gli ha creato delle condizioni molto difficili però lui sta correndo sul sentiero del coraggio e un'altra persona oggi adesso in questo momento sta ascendendo sulla sua macchina quella macchina che aveva quando ebbe quell'interribile incidente Alessandro Zanardi a Berlino per compiere i suoi 12 giri e nelle prove ha fatto il settimo tempo e in questo caso lui non sta solo correndo sul sentiero del coraggio ma credo che è un sentiero che porta le divinità tutte le divinità che abitano dentro il corpo e il cuore dell'uomo e un'altra cosa gli angeli sono molto in affanno oggi perché De Girocato sta cercando di scappare dal paradiso perché dice che quello non è il paradiso il paradiso è qua il paradiso è qua con i suoi amici con i suoi eroi e dà a tutti questo messaggio il paradiso non è perduto ok grazie ciao grazie andiamo da grazie di cuore intanto Barros qui che infila Hopkins costretto a correggere la sua traiettoria andiamo da Alberto Porta con Carlos Cieca ecco Carlos cosa ti è successo? eh niente la moto si è fermata credo è stato sfortunato oggi alla fine la moto andava un po' meglio eh sapeva la mia limitazione però abbiamo riuscito ad andare abbastanza bene come si è visto all'inizio ho riuscito a prendere il gruppo davanti dopo passare Hopkins però dopo finire il rettilineo si è spento ha un problema elettrico? eh non lo so si è spento da colpo non è più ripartita e tu sei qui a pieno peccato ok niente è arrivato nel scooter grazie Hopkins tiene testa a Dukawa nel frattempo ed è molto bravo Hopkins in questo momento gira in quinta posizione davanti anzi in sesta posizione ma sta facendo andare la sua Suzuki molto di più di quella del suo compagno di squadra pit stop pubblicitario per noi tutto invariato con Valentino Rossi che ha girato quando mancano 19 tornate alla conclusione in 1.43 457 1.43 7 per viaggio 1.44 per Capirossi 1.45 netto per Troy Belis intanto qua anche Tamada alle prese con Nukawa Tamada gommato Princeton sembra più bravo attenzione intanto Nicky Iden il compagno di squadra di Valentino Rossi che viene portato via braccia quindi in qualche modo un infortunio per lui un infortunio per lui qui siamo subito al suo muretto con Carlo Fiorani direttore sportivo del team Rossi e Rossi invece canza la sua moto ma viaggi in qualche modo adesso ha cominciato a tenere vengono fuori un po' distanziate tra loro invece le due Ducati di Capirossi e Bayles con Barros lanciato a loro in seguimento ed ecco qua terzetto con Hopkins Ukawa e il giapponese Tamada il giapponese Tamada Honda team Ramac Rossi viene fuori abbastanza pulito da quella curva intanto qua 7 Gibernaus quote la testa ai box dopo la vittoria di Belton avrebbe voluto la magia che la magia si ripetesse anche qui forse Gatti in questo momento è giro per il paddock o in qualche curva a guardare passare gli altri e non è remoto con lui andiamo al box Ducati con l'amministratore delegato di Ducati Corsa e il microfono di Paolo Vettramo eccomi con Claudio Domenicali allora ci avete fatto sognare avete fatto sognare tutta l'Italia col primo e secondo tempo però in gara c'è qualche problema in più che in prova che cos'è secondo te? ma la gara è una combinazione di fattori un po' diversi da fare il giro singolo bisogna trovare un equilibrio tra tutte le componenti e questo per ottenere il modo migliore serve soprattutto tanta esperienza questo per noi è proprio un anno in cui vogliamo in ogni gara cercare di capire al meglio quali sono i parametri per prepararci nel modo migliore per l'anno prossimo la tua impressione che cosa è capitato a Belis in quel momento in cui ha perso di colpo diciamo contatto una marcia qualcosa così forse era Loris credo e credo abbia perso l'anteriore solo perché è entrato un po' troppo frenato no sì ma prima che era Belis a un certo punto è stato un po' staccato di colpo ma ha fatto un errore che non si è visto grazie grazie a Beltramo e Domenicali intanto qua la regia ci ripropone la partenza la partenza di Valentino Rossi era rimasto intruppato ha rischiato il contatto con Nukawa è recuperato però Reggiani senza che il multi di moto da davanti fosse un problema sì come oramai ci ha abituato a fare da tanto tempo sembra che gli altri non esistono quasi in questa categoria Melandri sempre in dodicesima posizione su che tempi sta girando ma gira abbastanza bene adesso ha rallentato un po' il suo ritmo probabilmente la schiena a piedi si fa non può sentire però 1.45 non è lo stesso tempo che sta facendo Belis che è in quarta posizione adesso invece Belis ha fatto un giro velocissimo 1.43 e 1.832 è stato più veloce in pista 1.43 559 Rossi 1.43 830 invece Melandri è nono 3 posizioni ha recuperato la dodicesima alla nonna posizione è il primo di quel gruppetto lì dietro Aga Jac e Nakano speriamo di vedere presto Melandri peccato non aver visto a questo punto i suoi sorpassi qui tanto passa il secondo terzo anzi chiamiamolo il quarto gruppo quello con Barros Hopkins Tamada che si è infilato anche Ukawa Tamada sta andando fortissimo Loris con le sue Bridgestone si permette di stare davanti a Ukawa con la moto più ufficiale che c'è adesso attacca anche Hopkins Tamada e lui infila peraltro la mia impressione è che la Bridgestone abbia deciso di investire in questo progetto moltissimo e sono determinati a raggiungere l'obiettivo vogliono essere competitivi Tamada non è certo forse la persona specialmente il primo anno che viene a vedere che viene a fare i Gran Premi che vede questi circuiti non è certo la persona che può dare l'indicazione esatta di dove sono queste coperture a vedere lui così agguerito e così davanti viene da pensare che forse quelle gomme sono quasi all'altezza delle misure Tamada adesso alle spalle di Barros quindi è in sesta posizione sta facendo veramente un garone allora Rossi viaggi staccato a tre secondi da Valentino Rossi poi Capirossi e Belis che viaggiano più o meno un secondo uno dall'altro ecco qua l'uscita di Rossi e poi Tamada anzi Barros Tamada Hopkins passa Valentino Rossi in uno quarantatré settecentododici uno quarantatré novecentotrentuno viaggi che perde due decimi Capirossi uno quarantaquattro e uno Belis ancora veloce uno quarantatré nove pit stop pubblicitario per noi in piega con Alexander Barros che ci guarda in faccia in realtà schiacciando la faccia sul serbatoio nel cupolino finisce per guardarci in faccia nella telecamera ma abbiamo notizie invece dai box da Alberto Porta su sette Gibernau che è rientrato sì sono entrato nel box di sette prima ho cercato di parlargli ma mi ha fatto segno di avere un forte mal di testa probabilmente andrà a farsi vedere al centro medico o magari forse è più l'arrabbiatura che non il mal di testa peraltro nessun problema solo qualche botta con la lama niente assolutamente di rimarcare apparentemente è stata una scivolata piuttosto in noca però magari da una giocata tosta in velocità può anche dare fastidio dare risentimento ecco qua Barros su Tamada stai a vedere adesso che Tamada attacca anche Barros per andare a prendersi la quinta posizione Valentino Rossi sul traguardo 1.43.7 per lui è un ritmo impressionante per gli altri perché Biaggi fa 1.44.1 come nelle prove in mezzo secondo al giro 44.2 per Capirossi 44.4 per Bellis ha ristabilito un po' di distanze e anche Hopkins sotto l'1.45 Melandri 1.45.9 ancora comunque il primo di quel gruppetto in nona posizione poi dopo di lui Nakano Aga Jack Aoki e McWilliams ancora le immagini della regia sul confronto fra Barros e Tamada il confronto tiratissimo con Ukawa che ha perso il terreno dai due si fa piacere in qualche modo vedere Barros riuscire di nuovo a guidare la Yamaha una moto che non è per quello che ci ha fatto vedere fin qui tra i vari infortuni Melandri Barros forse Melandri potrebbe aver pagato anche qualcosa all'inesperienza ma non sembra affatto una moto facile né da mettere a punto né da guidare Barros l'altra sera addirittura scendeva l'altro ieri dicendo nella mia testa o nebbia non so più cosa fare anche perché le soluzioni prospettate offerte ai piloti dalla casa sembrano essere veramente tante e continue c'è un po' il rischio di creare no 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 è fuori è fuori direi Capirossi Capirossi è fuori si è steso Capirossi peccato questa non ci vuole no è fuori Capirossi peccato pressione gomma chissà cosa stava facendo stava tirando stava cercando di rimpossare un po' gli attacchi di Beris che aveva recuperato qualcosa negli ultimi due giri ha partito dietro e non è riuscito a tenere peccato mannaggia mannaggia Capirossi fuori Capirossi fuori vediamo sul traguardo ancora Rossi 1.43.9 1.43.9 anche per Biaggi che in questo giro ha limitato i danni il suo distacco è di 3 secondi e mezzo Beris 1.44.0 il che non è male ma sta viaggiando a 8 secondi dalla testa della corsa o meglio a 4 secondi e 7 da Biaggi poi Barros quindi Tamada Fukawa Hawkins Nakano non ha posizione per Melandri davanti a Dagua Aga Jacques Hawking McWilliams e Edwards i due piloti a Priglia si sono invertiti di ruolo qui sta andando decisamente meglio Aga rispetto a Edwards sono separati i due da circa 3 secondi l'uno dall'altro attenzione ancora qua duello andiamo a sentire però Roberto Brivio su Yamaha sull'argomento che facevamo che affrontavamo prima si il fratello maggiore Davide ho detto ho detto Roberto allora la Yamaha insomma in prova non siete ancora proprio competitivi quinto Baros per ora Tamada favoloso Tamada poi vabbè no qui devo dire che vabbè siamo un po' delusi perché la fermata di Carlos in effetti ha compromesso quella che poteva essere la gara un po' del rilancio del ritorno nelle alte posizioni perché poteva penso poteva lottare per il podio comodamente adesso vediamo se Baros si è spento improvvisamente potrebbe essere una mancanza improvvisa di corrente adesso stiamo verificando è appena rientrata la moto e poi vediamo un po' come è e direi che Marco sta facendo un'ottima gara vediamo se tiene fino alla fine perché ovviamente non è non si è allenato molto però bravo va bene così grazie ciao ottimo torniamo sempre per restare in argomento Yamaha alla domanda che facevamo ci ponevamo poco fa con Reggiani tanti pezzi nuovi che arrivano la moto lavoratorio che poi è stata abbandonata l'idea che ci sia un po' di confusione diciamo che la risposta giusta l'ha data Davide Cieca davvero quando si è fermato aveva un buon ritmo e aveva la possibilità era proiettato alla caccia delle due Ducati poteva sistemarsi alle spalle di questi due hondisti e risistemare un po' le cose come erano l'anno scorso e come forse sono ancora la Yamaha è stata sfortunata durante l'inverno è stata a provare sempre in Europa quella è stata una scelta però poi la sfortuna ha voluto che per il 50% del tempo sia piovuto e quindi non abbiano potuto fare più di tanto hanno avuto forse un po' più di problemi di troppo nel sistemare l'iniezione però la cosa più grave e peggiore che gli è capitata è la bollitura di cieca che si è svegliato sembra quasi che si sia risvegliato solo qui sul circuito di IRS e l'incidente di Melandri e di Barros in Giappone che hanno limitato e non hanno potuto far vedere quello che la Yamaha vale veramente una fascia pubblicitaria e poi ritorniamo in pista sta facendo una solo qui è l'Uto Ugi della moto Valentino Rossi mentre entriamo nel box dove ci sono i vertici della Honda che si ritrovano il fenomeno di nuovo tra le mani Biaggi dunque 1.43.5.60 ha un passo a Rossi che fa paura si come nelle prove che mi dicevo prima un mezzo secondo al giro dai 4 ai 6 decimi al giro non può stare dietro nessuno la Ducati ha fatto una grandissima cosa in prova l'impressione è che comunque anche per loro come per i piloti trovare poi gli ultimi due decimi necessari per vincere come sempre i più difficili e l'augurio che davvero intanto anche Melandri non ce l'ha fatto probabilmente sta bene e ha fatto un dritto dritto o ha rotto la moto no forse un dritto la moto è accesa e la ruota dietro le gira peccato 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 perché stava andando bene andiamo da Alberto Porta lo rimettono in pista Melandri è giusto preferisce continuare a fare chilometri a fare strada per continuare a fare esperienza anche in gara peccato per Melandri andiamo invece da Alberto Porta ai box che è con Sito Pons per parlare di Biasi qualche frizione nei giorni scorsi e frizione adesso mi viene benvenuto così pare un lapsus freudiano però potrebbe centrare in qualche modo a te Alberto Sì con Sito Pons Valentino sembra imprendibile però Max sta dando veramente tutto Sì lui lo sta facendo veramente bene no sta facendo veramente bene perché con la moto che abbiamo ma penso che stiamo sulla strada Alberto adesso è il caso di spingere ancora di più con i dirigenti HRC per avere una moto per Max o pezzi per Max che gli consentano di stare un po' più vicino anche a Valentino tra l'altro Max paga ogni giro 6 o 7 km per orari di velocità massima io penso che senza dubbio non è un problema di spingere di più è un problema perché l'HRC deve fare il massimo per dare la 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 che che loro fa per Max lui lo dimostra nella pista ogni volta che usce noi come team anche lo facciamo e io penso che la Honda è quello che deve fare il passo e infatti loro penso che stanno facendo il suo massimo potenziale per aiutarlo grazie intanto è inquadrata la gara della Coppa Kawasaki la Coppa la Coppa Kawasaki che è una coppa una coppa se voleva dire Alberto Porta la coppa degli ultimi Kawasaki veramente in grandissima difficoltà ed è un peccato vedere un marchio così importante così forte avere tutti questi questi ostacoli sul suo cammino ehi il fumo ancora vietato fumare non in pista Melandri continua ci arriva la segnalazione da Giorgio Terrosi lo immaginavamo perché abbiamo detto che riteniamo sia utile guardate che fumata la regia ce la ripropone immediatamente il numero di Valentino Rossi su questa pista ci sono un paio di punti che agevolano questa operazione tra l'altro un'indiscrezione tornando al discorso del sito Ponce Biaggi direbbe che dice che sarebbe in arrivo una nuova frizione proprio per Max Biaggi un pezzettino da del valore di 50.000 dollari e potrebbe arrivare a breve magari addirittura alla prossima gara i tempi i tempi si sono alzati un po' questo giro Valentino Rossi ha fatto 1.44.6 che è lo stesso passaggio di Max Biaggi però i Melis è poco più veloce di loro e poi di loro c'è Barros che ha girato invece un po' più piano di Melis quindi in proiezione non mi sembra che il pilota brasiliano possa raggiungere la Ducati poi Tamada che continua a tenersi dietro la moto ufficiale di Ukawa poi Hopkins Nakano Jacques Aga che è la prima a prilienpista in decima posizione lo boccio con la tre cilindri e due tempi di Kenny Roberts da cinque cilindri e quattro tempi a V che era è stata prospettata come 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 prima presenza qui a IRS invece ha avuto un problema un grosso problema a banco prova finché non lo risolveranno continueranno a correre con la due tempi la Proton dunque opta per una soluzione a cinque cilindri cercando in qualche modo di ricalcare il modello Honda anche se Reggiani si continua a vociferare di ulteriori progetti Honda che potrebbero portare una soluzione a tre o addirittura a sei non possono permettere di fare qualsiasi tipo di progetto o di seguire qualsiasi tipo di strada poi loro hanno la possibilità di andare in pista provare là in Giappone e decidere con cosa andare avanti certo è che questa cinque cilindri non mi sembra per niente male potrebbero anche tenersene un altro po' dici visto che funziona così guardate Rossi e poi il vuoto 1.44.069 torna a girare fortino Rossi 1.44.03 perde tre decimi Max Biaggi da Rossi a questo punto il suo distacco è di cinque secondi passa Belis a dieci secondi e mezzo da Valentino Rossi a quattro secondi e mezzo da Biaggi l'impressione è che Belis non stia recuperando nemmeno su Biaggi proprio neanche un po' un Belis sul podio grandissimo risultato sarebbe dopo la disavventura di Capirossi insomma la Ducati è veramente sulla buona strada poi Baros 1.44.7 Ucao 1.44.6 Tamada 1.45.087 andiamo a vedere poi quando passerà Melandri che tempo riuscirà a stampare sul traguardo il giro precedente aveva fatto 1.47.638 e era passato in dicesettesima posizione Colin Edwards e Aga Aga undicesimo 1.45.7 1.45.8 invece per Edwards una apriglia che ha ricevuto l'avete visto se ci avete seguito anche nelle classi precedenti la visita del presidente Beggio mentre qui Troy Belis va a carezzare la battigia della pista mamma mia rischio grosso con la moto che sbanda sul terriccio rivediamola è andato un po' troppo in là questa volta anche perché pochi metri più avanti avrebbe dovuto cominciare a frenare per la curva successiva e non avrebbe potuto farlo sicuramente andiamo da Paolo Beltramo che ha notizie invece su Aiden che abbiamo visto prima ha portato via Abbraccia Micchi Aiden sostituisco il dottor Costa ha una sblogatura del polso e una contusione a un piede polso sinistro piede destro grazie Paolo peccato per Aiden che stava cominciando ad andare bene a tenere a tenere non dico il ritmo dei migliori però era oh parentesi nera sull'asfalto per Troy Belis mentre qua Ukawa e c'è Tamada però che ha perso le sue due posizioni che si era recuperato adesso è dietro a Barros e a Ukawa l'abbiamo intravisto di dietro Tamada lo vediamo anche nella grafica scavalcato dalla Yamaha di Barros e dalla Honda ufficiale di Ukawa che non sta rendendo neanche il 20% di quello che sta facendo Valentino Rossi con la moto uguale la sua là davanti piccola pausa per noi ecco qua Barros allora adesso in lotta per il quarto posto non ha chance di andare a prendere Baylis mancano otto giri alla conclusione a meno che Baylis non sbagli clamorosamente è a 5 secondi da Baylis questo Barros che si tira dietro Ukawa quindi Baylis può puntare al podio deve stare soltanto attento ad amministrare a gestire bene gomme corsa e moto e la sua foga Troy Baylis arrivato se vogliamo al motociclismo di vertice a vincere un mondiale in superbike tardi rispetto a quella che normalmente è la carriera di un motociclista ha fatto il battilastre fino a quando è stato più che adolescente ragazzo salvo poi finalmente il carrozziere diciamo fino a quando poi ha avuto l'opportunità di cominciare a correre in moto questo Fadi Baylis oltre al fatto di provenire dalla superbike che è un ambiente molto semplice Fadi Baylis anche un uomo molto con i piedi per terra uno di quelli non di quelli che volano a 10.000 metri da terra perché pilotano nel moto mondiale 1.44 e 0.23 Valentino Rossi al massimo molla di 1.2 decimi ma non di più e comunque continua a girare sempre mezzo secondo più forte di tutti gli altri adesso il suo vantaggio è su viaggi è arrivato a 6 secondi mentre Baylis è staccato da viaggi di 5 secondi e 2 decimi ecco qua intanto invece il terzetto degli inseguitori con Barros Ukawa e il bravo Tamada che comunque vada fin qui ha fatto davvero una bellissima gara mattinata veramente entusiasmante per il moto mondiale fino a questo momento anche se in realtà partiamo siamo partiti per questo weekend con un piccolo grande vuoto nel cuore c'è una persona che lavorava con noi uno di quelli che consentono che il segnale arrivi il più bello possibile nelle vostre case ma soprattutto un motociclista Giorgio Pizzoccheri che guidando la sua moto purtroppo ha avuto un incidente mortale ed è scomparso ma andiamo da qui dal moto mondiale che era una delle sue grandi passioni un grande abbraccio a sua moglie Maria Teresa e al suo bimbo Pietro e un bacio a Pizzoccheri lassù gran staccata con saltellamento della ruota posteriore per Valentino Rossi vero matatore della corsa si è districato dal groviglio della partenza in un pugno di giri forse nemmeno uno un giro e mezzo due e poi si è ritrovato con i primissimi salvo poi approfittare delle buone situazioni per portarsi in prima posizione e far partire quella cannonata che è la sua moto gestendola gestendola come soltanto lui in questo momento sa fare solo per fare una considerazione una notizia che ci arriva dai box sembra che Capirossi nel giro di ricognizione abbia avuto una collisione con un altro pilota del quale però non conosciamo l'identità si sia rotta la carriatura e abbia dovuto guidare questi primi giri finché Capirossi è stato in pista con il manubrio storto quindi questa è una cosa che sicuramente è un grande beneficio non te lo puoi anche se adesso penso a quelle derrapate spaventose si un cavo ha passato Barros penso a quelle derrapate spaventose con il manubrio storto se così fosse non so se dire tanto di cappello oppure se erano figlie del problema tanto di cappello possiamo dire anche col manubrio dritto sì d'accordo però non vorrei che fossero dovute al problema no erano assolutamente derrapate controllate e controllate dorme negli alberghi deve partire alle sei e mezza della mattina per essere in autodromo alle nove scavalcando tendopoli moto stese macchine bruciate ma soprattutto anche e fortunatamente tifosi festanti in modo assolutamente civile cinque giri alla conclusione con la Ducati di Baylis che spettina l'asfalto e qui sempre questo terzetto compatto Valentino Rossi sta facendo un po' lo Schumacher in questo momento con quel margine spaventoso che è riuscito a prendersi ma con Biaggi che comunque questo va detto fa assolutamente l'impossibile per limitare i danni gira costantemente con lo stesso passo che è più alto evidentemente più lento di quello di Valentino Rossi però non è che ha mollato Valentino Rossi gira in 1.44 adesso 1.44 netto Valentino Rossi 1.44 176 per Max Biaggi il ritmo dei due è sempre stato più o meno questa cosa soltanto che giro dopo giro evidentemente il vantaggio di Rossi è aumentato in effetti arrivassero pezzi nuovi alla Honda di Biaggi probabilmente potremmo vedere un Biaggi in crescita allora magari vederlo davvero duellare di nuovo un po' più da vicino con Valentino Rossi anche se la domanda che si fanno in molti e forse non è la prima volta che ce la poniamo anche noi Loris tanto anche qui Rossi al limite del biaggio al limite dell'aderenza della sua moto è la guida la guida che abbiamo visto nei primi giri la parte di Rossi ma anche di Capirossi che è una guida che in qualche modo Biaggi non dico che rifiuta ma che non affronta perché è un altro stile è produttiva o no? la vera svolta in termini di competitività arriverà nel momento in cui tutti sapranno controllare la derappata in quel modo lì? secondo te? non credo che ci sia una differenza notevole di tempi sul giro fra far derappare così la moto o non farlo questa cosa me la fa pensare è anche il fatto che durante le prove con le gomme morbide i piloti vanno meno di traverso che durante la gara c'è davvero una cosa sicuramente ti aiuta a terminare una gara in condizioni fisiche migliori e stancarti di meno perché in una curva molto lunga come quella proprio come quella nella quale vediamo i piloti trappare di più di tutti fare anche il fumo tenere giù la moto di forza mentre dai gas e mentre questa vuole andare fuori uscire dalla curva e quindi allargare le traiettorie è più difficile è più faticoso fisicamente che non dare un pochino più di gas mettere la moto di traverso che a quel punto chiude la curva da sola certo è che dosare quei 2, 3, 4 cavalli in più che ti permettono di mettere la moto di traverso ma non di metterla per cappello non è così semplice sono Micron di gas e tolitri di adrenalina e di coraggio Valentino Rossi al giro precedente 1, 43 e 901 di nuovo un decimo sotto l'1, 44 Biaggi 1, 44 e mezzo Belis 1, 44 e 111 un buon giro quello di Belis Ucao 1, 44 e 2 Baros 1, 44 e 3 Tamada 1, 44 e 8 e poi Hopkins settimo ottavo Nakano nono Aoki decimo Jacques undicesimo Aga dodicesimo McWilliams tredicesimo Roberts quattordicesimo Edwards quindicesimo Hoffman sedicesimo Pitt diciassettesimo un Melandri che è stato protagonista di un dritto che si è fermato e che ha rispinto la moto e nonostante tutto è riuscito a rientrare con un vantaggio sulle diciamolo disastrose Kawasaki anzi sulla no però Pitt è davanti a Melandri sulla Kawasaki di Metcione anche Offman anche Melandri quando è entrato in pista si è fermato si trova adesso a 19 secondi di distacco da Pitt per cui la sua gara è finita non può recuperare più nessuna posizione nemmeno girasse come Valentino tre giri alla conclusione con il passaggio di Valentino Rossi esagera 1 143 7 Max Biaggi alza anche lui no Max Biaggi costante 1 44 e 1 e Belis 1 44 e 2 ormai le tre posizioni di testa sono sgranate sono definite e dovrebbero rimanere inalterate fino al traguardo proiettando Rossi ad un'altra vittoria alla seconda vittoria della stagione mentre Ukawa prende un pochino di margine su Barros e Tamada evidentemente un po' in sofferenza forse perché le Bridgestone non sono ancora pronte per tenere sulla lunga distanza si c'è la possibilità è difficile capire e valutare per fare una battuta per ragionare per assurdo e Tamada invece essere inferiore a quello che sta facendo vedere rispetto agli altri piloti oppure viceversa è molto difficile poter dire cosa sta succedendo ancora 1 43 7 per Valentino Rossi eccellente 1 44 e 1 per Biaggi sono di granito questi tempi 1 44 e 2 cambiano di piccoli pugni di millesimi ma ormai il passo è consolidato e questo dei primi tre i piloti ehi la McCoy sarà anche ultimo in lotta per la Coppa Ducati ma anche lui si fa vedere la verdona tutta di traverso Coppa Kawasaki ho detto? Ducati Urca no certo Kawasaki c'è un po' di differenza c'è da fare una considerazione la Kawasaki è davvero nonostante sia la seconda anno di gara nonostante avessero detto che avevano budget illimitato che sarebbero in tre anni diventati competitivi gliene manca uno dopo questo c'è solo un altro e dovrebbero fare un bel salto per diventare competitivi il loro motore va pianissimo l'abbiamo visto qua inferiore qualche giro anche alle tre cilindri due tempi cosa ha fatto un'altra volta prima Bainis e poi Valentino Rossi tutti di traverso andiamo dritti da porta sì per dire anche che Alex Hoffman il collaudatore della Kawasaki non è pilota titolare qui come Wildcard è davanti ai due piloti ufficiali ieri tra l'altro me l'aveva detto io punto a vincere la Coppa Kawasaki domani beh direi che ce la sta facendo no Hoffman è quindicesimo davanti a Pitt e a McCoy in mezzo c'è soltanto Melandri era 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 perché Pitt l'ha superato 14esimo Colin Edwards una gara strana per lui vediamo se ha avuto problemi intanto ci giunge notizia che il contatto inizia l'ultimo giro il contatto in parte nel giro di riscaldamento della Ducati di Capirossi è avvenuto a manco a farla apposta contro i Benis in nome di quell'accordo che si erano fatti di non darsi fastidio fino all'ottavo giro in gara si sono centrati in nel giro di ricognizione Valentino Rossi c'è con tutta la sua sostanza e vince davanti a due grande Max Biaggi Max Biaggi secondo a 6 secondi molto contento anche Biaggi il fan club di Valentino Rossi è già in pista e poi grande applauso per Troy Benis al suo primo podio in MotoGP davanti a Okawa a Barros all'ottimo Tamada e gli altri ancora devono passare pensate settimo Hopkins ottimo anche lui ottavo Nakano mentre Valentino Rossi ha già cominciato a festeggiare adesso doppierà qualche Kawasaki con la bandiera in mano poi a Okinono decimo Jack undicesimo Aga con l'Apriglia dodicesima la Proton due tempi di McWilliams tredicesimo Kenny Roberts che ci aveva un po' illusi di andare ancora forte nei primi giorni di gara e poi Colin Edwards con la seconda delle Apriliai o bandiera italiana è rimasta in mezzo alla pista l'ha buttata Valentino Rossi che probabilmente ha bisogno delle due mani a meno che non stia architettando qualche numero spettacolare ecco qua per cui la bandiera sarebbe stata ad ostacolo punta all'alto sembra un F104 in cabrata ripreso da quella telecamera posteriore si vede soltanto gelo e sta su centinaia di metri a guardare per aria bella immagine si un po' frustrante per chi quelle robe lì non le sa fare fortunatamente non le fa il taglio del traguardo in questo momento anche Marco Meladri il dicesettesimo come era prima non poteva fare niente di più l'unica cosa che poteva fare l'ha fatta finire portare a termine la sua prima gara in MotoGP speriamo che questo sia la molla con la Fionda in un nuovo anno di protagonista beh insomma considerando che è uscito di pista si è fermato e ripartito ci piace la capabilità con cui ha chiuso la corsa e ovviamente sappiamo perfettamente che avendo girato in qualifica a un secondo scarso dalla pole position insomma sia sia buono per lottare a breve con i migliori anche Belis scatena tutto quello che questa nuova Desmo 16 ha sull'asfalto Belis lui la Fionda è già scattata Belis e Beniamini in Italia già lo era per il popolo della Superbike ha già fatto un bel passo verso la conquista del cuore di molti altri tifosi non c'ha voglia di star seduto neanche un po' regalandoci quella strepitosa inquadratura Occhie McWilliams dietro di lui si stringono la mano veramente gara passerella trionfale per Valentino Rossi mentre ecco qua Belis ha già raggiunto il parco chiuso probabilmente anche lui è un incontentabile sente di avere più possibilità però per lui è per la Ducati questo è un grandissimo risultato rientrano tutti per i box al parco chiuso i primi tre con Valentino Rossi che si porta a 70 punti in testa al mondiale con 14 punti di vantaggio su Max Piaggi a quota 56 quindi Belis pensate è terzo a quota 40 Belis che si permette di mettersi dietro Gibernau a 38 Barros a 30 Ocao a 23 Nakano a 20 Aiden a 18 punti Capirossi nono a 16 punti Capirossi che qui è stata la straordinaria pole position del Gran Premio per quello che riguarda invece il mondiale costruttori anche qui bello vedere che c'è la onda la onda in testa con 75 punti ma seguita a 30 punti di distanza al secondo posto dalla Ducati fa un po' di effetto vedere lì la Ducati davanti alla Yamaha poi alla Priglia alla Suzuki alla Protone alla Kawasaki fuori classifica sono già sul podio Belis e Biaggi e in questo momento entra il vero trionfatore del Gran Premio Valentino Rossi qua una parte del suo fans club vestito di giallo gara solitaria per Valentino Rossi ecco qua Jeremy Barges suo storico direttore tecnico sicuramente una gran gara quella di Rossi gara eccellente anche per Biaggi che sicuramente più di così non riesce a dare ricordiamoci che ha messo la sua moto clienti davanti ad altre onde ufficiali ultima ma non ultima quella del suo compagno di squadra Aukawa poi Gibernau che è uscito Hayden che è uscito quindi sicuramente i due migliori piloti del mondo sono lì e poi Baylis con la Ducati ha dato del grande spettacolo ecco colpisce un po' il fatto che ci sia stato questo contatto proprio tra lui e Capirossi nel giro di allineamento quello che Baylis ha finito disaster un bacio veramente amorevole in questo caso alla coppa che rappresenta una gara esagerata di Valentino Rossi che si è goduto soprattutto il fatto di poter dare spettacolo di fronte ad una massa spaventosa di gente che i piloti italiani si augurano di rincontrare anche al Mugello a patto che i prezzi siano adeguati quando risulta che proprio il Mugello sia l'autodromo che ha i prezzi più alti Ale 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 Vale Ale tifo calcistico tutto per Valentino Rossi ma anche per i tifosi di Biaggi e di Baylis Fratelli d'Italia ne abbiamo ben due sul podio lo rispettiamo in silenzio anche noi i numeri di Valentino Rossi in piedi sulla sella con la moto dritta che guardava al cielo lo avete visto di traverso l'avevamo già visto e poi qui c'è il rito delle bottiglie di spumante per prima la signorina da parte di Rossi e poi tutto là sotto sia lui che Baylis che Biaggi e quelle che in condizioni normali sono gocce appiccicatici un po' schifose da avere addosso gli spumanti in questo caso per chi sta sotto sono leggere come la rugiada primavera allora direi che qui da RS della frontiera ma dalla postazione di commento è tutto perché restate collegati con lo studio dove sono già pronti gli ospiti di Fuori Giri grazie da parte di Guido Meda Paolo Vettramo Alberto Porta li ritroverete come Lore Saregiani in Fuori Giri e ci risentiamo dalle mani adesso Fuori Giri con Nico Cerighini per approfondire tutti i temi di questa mattinata serepitosa a te Nico grazie a tutti